salve a tutti bentornati in un altro video come state spero tutto bene oggi dopo tanto tempo faccio un video unboxing e lo faccio insieme a voi perché il pacco appena arrivato come potete vedere è chiuso il pacco e da parte di 1000 76 l'ultima volta io avevo partecipato ad un contesto ovvero il cercasi blogger 1000 1000 che però non ho vinto mi metto il video qua questa volta ho ricevuto questo pacchetto perché se non mi sbaglio c'era tipo un contest su instagram ora non ricordo bene perché è passato tanto tempo e addirittura avevo dimenticato tutto infatti sono passati sì tipo due tre mesi era molto molto prima di natale forse ottobre novembre ora mi sfugge e c'era questo contest su instagram i primi tot contatti avrebbero vinto un premio allora lo apro insieme a cui perché non idea di cosa mi abbia di cosa mi abbia omaggiato l'azienda allora apro facciamo a cui non è l'ora questo è un video proprio spontaneo perché il corriere arrivato circa cinque minuti fa ho detto vabbè faccio subito il video faccio l'effetto ah benissimo come sono contenta neanche a farlo apposta l'ho anche visto di recente sul loro profilo oppure sulle newsletter allora mi è arrivato il sapone liquido per le mani al teatri poi l'olio di teatri e per pelli sensibili ed è un antibatterico naturale infatti l'olio di teatri è indicato soprattutto per per chi come mi per esempio alla pelle molto molto grassa mi piace sono veramente molto contenta poi io adoro i prodotti mill mille lo sapete al di là proprio di questi omaggi comunque perché io prende li compro spesso dal sapone intimo da il bagno schiuma di tutte le dimensioni e tutte le profumazioni possibili immaginabili e poi mi trovo veramente molto molto bene con i soldi io ho la pelle molto delicata pur abbronzandomi comunque abbastanza facilmente quando il solare non è di buona qualità e può essere pure il più costoso che ci sia diciamo la mia pelle ne risente si secca si irrita e tutto invece con i solari mill mill assolutamente no li pago tipo un paio massimo 5 euro ecco questa è la cifra è comunque molto irrisoria ma tratta la mia pelle veramente come una regina e sembra un modo di dire che è inventato diciamo in questo momento però è giusto per farvi capire quanto siano delicati quanto siano perfetti per le pelli sensibili allora dice qui dietro efficace la sua formulazione a ph fisiologico e con antibatterico naturale svolge un'equilibrata azione contro i batteri assicurando una quotidiana igiene della pelle dato comunque l'ultimo anno un po particolare cerchiamo sempre prodotti antibatterici perché comunque abbiamo più paura di batteri e virus depositati sulle mani allora questo qui è perfetto poi invece ho un deodorante deo body spray parfum al muschio bianco allora io adoro la profumazione del muschio bianco però non ho mai provato il deodorante della marca mill mill perché purtroppo dove abito io non si trovano facilmente sono molto contenta beh io quando vedo deodoranti o bagno schiuma io faccio proprio gli occhi a cuore ecco faccio proprio gli occhi a cuore io ne li colleziono proprio perché mi piace cambiare profumazione ogni giorno tra deodoranti bagno schiuma e crema corpo infatti c'è molti dicono no a me non piace quando ricevo come regalo deodorante bagno schiuma e crema corpo invece sono felicissime infatti la mia migliore amica compleanno 2020 mi ha regalato un kit alla mandorla dolce per ogni un altro brand metto qui a video e sono contentissimo lo proverò sicuramente è 100 ml quindi comunque credo sia una mini size ma non mi anzi no no per essere un deodorante no non è affatto la mini size si sente già da fuori è veramente molto 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 buono vediamo come invece si comporterà per quanto riguarda la durata e l'efficacia per quanto riguarda il profumo è paradisiaco si sente già e posso essere solo contenta ecco ok è tutto spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto via via in solo compagnia ringrazio ancora mil mil per l'omaggio che mi ha inviato più che altro ringrazio per la possibilità che ha dato a me e ad altre persone di poterci aggiudicare questi regalini sono molto contenta veramente cioè sono questi io se dovessi collaborare con un'azienda io collaborerei veramente con con tanta gioia con aziende del genere proprio perché io già conosco i loro prodotti ma poi a me piace sperimentare ecco prodotti come brando schiuma crema corpo skin care varia diciamo prima di tutto il resto e niente non dimenticate di aggiungermi su instagram facebook e soprattutto su su che il nuovo social che paga paga sin da subito paga dal primo post andate a vedere il video dove vi spiego tutto seguitemi aggiungetemi dal link che trovate qua sotto e supportiamoci insieme ok adesso e adesso vi saluto mi mando un bacione ci vediamo alla prossima